Lo studio dentistico sangrato di Caselle Torinese si trova in una struttura originaria del 1700, con ampie vetrate che si affacciano sull'area verde circostante, caratterizzata da alberi e giardini. La location colpisce particolarmente i nostri pazienti, per i quali andare dal dentista diventa, per la prima volta, piacevole e rilassante. Fra le prestazioni offerte dallo studio dentistico sangrato di Caselle Torinese ci sono la chirurgia implantare, il rialzo del seno macellare, la chirurgia odontoiatrica, la parodontologia, l'anestesia con sedazione cosciente, trattamenti con laser, ortodonzia ed altre cure innovative. Studio dentistico sangrato, ci prendiamo cura dei tuoi denti e di te!